drone o non drone questo è il dilemma che non è amletico è uno dei tanti dilemmi contiani cioè del nostro presidente del consiglio nao davanti nao darre ora vedremo ora facciamo forse annuncio poi ne discutiamo ma la volete finire il 24 di marzo scorso quindi parliamo di quattro giorni cinque giorni fa l'ente nazionale delle azioni civile l'enac ha autorizzato in deroga tutte le varie regolamentazioni l'uso dei droni ai sindaci alla polizia municipale alle forze dell'ordine che sono fondamentali per poter monitorare il territorio consentirci anche di usare al meglio le nostre risorse umane ora che fa il gabrielli mi pare che dicono che sarebbe il capo della polizia di stato dice che non si possono più utilizzare i droni o meglio lui dice ora ci sono i lanci ansa non si capisce se si possono più utilizzare oh io devo partire con i droni e da venti giorni che lavoriamo sono stati i primi a lanciare la strategia di utilizzo dei droni perché ci serve ci serve perché così noi non solo vediamo la situazione sul territorio ma avevo fatto dei droni innovativi con la mia voce che come beccava chi trasgrediva le norme lo mandava a quel paese lo invitava ad andare a casa ma al di là di quello lo fotografavano lo funzionavamo oh intenziali ci siamo nei sindaci noi abbiamo bisogno di strumenti per operare pensate voi fate le leggi voi che state nei palazzi dorati fate i dpcm dpcc e dtt e noi sul territorio dovremmo fare cosa per riuscire a far applicare le norme smettetela ci state portando all'esasperazione soprattutto a noi sindaci che siamo schiacciati tra le legittime tensioni delle nostre comunità e poi con la guerra con chi sta sopra di noi perché dal palazzo dorato si ha un altro visuale scusate ministri volete passare la mezza giornata con me in trincea mezza giornata passatevi mezza giornata con me in trincea se qualcuno di voi ha il fisico bestiale si passi una giornata così sono convinto che vi renderete conto e vi renderete conto senz'altro che è il momento di smetterla mi passi il francesismo di governare a colpi di minchiate no non è possibile basta io devo partire con i droni vi volete decidere e soprattutto smettetela con ora sì ora no forse non è questa la serietà e noi che dobbiamo prendere decisioni secondo per secondo noi poveri sindaci di trincea non possiamo essere sottoposti alla merce di direttanti allo sbaraglio